Risparmiando l'energia, spegnendo le luci, faccio la lavatrice di notte. Credo fermamente alla raccolta differenziata. Accumulo le pile e le vado poi a buttare nei contenitori appositi. Utilizzare la borsa e le tasche per infilarci tutta la spazzatura. Cercare di fare la raccolta differenziata. Usare poco la macchina. Tenere il più pulito il proprio quartiere. Innanzitutto sono molto attenta sulla pulizia, di non buttare le cose per terra. Cercare di sparmiare acqua, energia. Piccoli gesti, ma se li facesse ognuno di noi sarebbe già un grandissimo vantaggio.